L'appartenenza al Regno di Dio, la collaborazione al suo disegno di salvezza, è legata al nostro quotidiano continuo, appassionato, anche impegno nel compiere la volontà di Dio. A volte noi consideriamo volontà di Dio quello che accade, come se tutto appunto accadesse perché Dio lo vuole, invece sappiamo bene che c'è tanto nella storia che Dio non vuole, non vorrebbe. C'è tanto che è il nostro male, il male che produciamo, il male che subiamo, il male che attraversa la nostra storia. Non tutto ciò che accade è volontà di Dio e non possiamo quindi semplicemente accettare supinamente il corso degli eventi, della storia dicendo è successo e quindi è volontà di Dio. Ci vuole un altro atteggiamento, così ci insegna il testo del Vangelo. Il compiere la volontà di Dio è un'attitudine con la quale noi cerchiamo di comprendere qual è la direzione con la quale Dio vuole accompagnare il nostro percorso e il percorso dell'umanità intera. È uno sforzo che dobbiamo fare diverso dall'accettare come voluto da Dio quello che la storia ci presenta. C'è una responsabilità che dobbiamo mettere in campo. Ci sono delle decisioni e anche dei cambiamenti, anche nel mondo, anche nella storia, che forse un pochettino per qualche frammento dipendono anche da noi e dalla generosità con la quale ci gettiamo in mezzo alle cose della storia. Il Padre nostro che recitiamo magari così spesso nelle nostre giornate ci fa dire che noi possiamo sentirci della famiglia di Dio se operiamo perché quello che riguarda la nostra vita, quello che riguarda le nostre responsabilità di ogni giorno, il nostro lavoro, le relazioni con gli altri, è guidato da questa volontà di Dio. E anche dallo sforzo che magari facciamo per correggere, se possiamo, l'andamento della storia alla quale noi un poco apparteniamo. Dobbiamo cercare di interpretare così questo atteggiamento con cui Gesù dice la mia famiglia? Questi sono le persone che sono attorno, le persone che mi ascoltano, che stanno cercando di interrogarsi e comprendere cosa sia il regno di Dio e cosa sia la sua volontà. Certo ci sono tra noi legami importanti e sono una benedizione, ma che tutto questo sia ricompreso nel comune desiderio di ricercare insieme una strada che renda questo mondo migliore, secondo disegno di Dio, secondo appunto la sua volontà. Buona giornata.